e ciao cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft oggi faremo five night at freddy's in compagnia di il guardiano freddy gamer bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono freddy gamer come sempre farò boni a noi guardiano però guardiano freddy va bene iniziamo che dobbiamo fare questa prima notte e chiudiamo questo telefono che luci e dobbiamo accendere vista vengono e facciamo che possano ragazzi se la volete sapere ho trovato migliaia di abitanti vediamo luna di notte tu alle due vai verso il mio figlio poi non è mezza quindi non è mezza odio bannalo ok devi mettermi la luce guarda qua avanti uccidili e tu sentivi stai rumori ma ciao che rumetto colleghi ciao ti sto uccidendo i rumetti oh ma che non uccide non mi piace non mi fanno per vincere non ci vede lì non ci vede lì non ci vede lì non ci vede lì trovi all'esterno è chiusa non ci vede lì 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 due di notte scusate se non abbiamo detto i due e scusate se non abbiamo messo la fiera però non ci puoi imbrogliare nel senso di che sono qui non ci puoi imbrogliare è veramente vero però voglio anche parlare sto portando un regalo mio ti pare il personaggio ingrativo dai salite salite dai 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 alla notte 7 allora alle 4 alla notte 5 alle 4 erano solamente alle 3 e mezzo però io mi giravo mi girava appena mi giravo torno a far finire saluta Antonio ora dai no 4 di notte 4 e un quarto di notte ok raga questa notte sta terminando io devo chiudere tutte e due ho paura era saluto aiuto sto morendo sto morendo sto morendo eccomi ora non mi ricordo più dove si sta no 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 non da qui da l'altra parte ma raga non c'è sono le 4 da questa parte le 20 del mattino le 4 le 20 del mattino 5 ma non passa oddio raga ma non passa se sbaglio ho preso ninja di table scusa vabbè io la spada d'oro però aspetta tu non fare niente ok ok ma è tutto bloccato fortunatamente questo no mi chiede telefono si questa è la mia scuola ma sarà fabrizio con il villager guarda il posto di ballon boy guarda il posto di ballon boy guarda il posto di ballon boy vuole controllare che fa bonnie sono le 5 del mattino dai non mi puoi picchiare da lontano ok ok perché non ci riusciva infatti dai no anche bucciolo sta leva non bucciolo sta leva quindi quindi no 35 Sergio ha abbandonato la partita tuo nonno ha abbandonato la partita ho preso il giro mi ha preso ridammi la mia roba ma che cosa ti devo dare mi ha fatto di oro guarda di terra il tifone quello di ferro intendo la mia spada di ferro questa questo è duro dai non c'è non te lo prendi qua guarda dammi a me non le interpello aspetta che ti ho è la caccia grazie però non entrare bannaviglio ok non è il interpello è l'interpello grazie ok adesso vattene 5 e un quarto del mattino vai 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 basta no 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 facciamo che si salvava facciamo che c'era un salvataggio no no ormai ormai scusami dai c'era un salvataggio ok facciamo che ti avevo attaccato giusto giusto adesso è il termobile questo me lo prendo io nooo questo me lo prendo io dai non vale veramente o mai guarda dove cavolo qua qua e l'altro qua sai voi sono per te non sono cieco ahhh vieni qua ti devo fare vedere neanche il carico dopo no vabbè vabbè vai lì vai vai diceva bene va bene vabbè 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 ho superato la notte ovviamente per un pelo comunque da bulli gamer e freddy gamer ciao ciao infatti è velo ciao ciao vabbè vabbè Grazie a tutti.